Al momento è un investire del tempo, delle risorse, degli uomini, risorse intese da tutti i punti di vista, per un investimento. Io innanzitutto devo ringraziare la Proger che è un po' il driver di questa operazione, così come la Camera di Commercio. Per quanto ci riguarda partiremo con un progetto, con un'academy targata per scaracalcio. Vi posso dire che arrivare in Cina e trovare già qualcuno con le nostre divise, con le nostre tute, mi ha fatto enormemente piacere. Però questo è solo l'inizio. Poi sarà il nostro lavoro a dirci se possiamo crescere in quel paese e soprattutto se possiamo attirare con il nostro lavoro, speriamo fatto al massimo, al meglio, attirare qualcuno che sia interessato magari a fare qualcosa di comune tra l'Italia e la Cina. Perché è vero che loro vogliono crescere, ma in questa fase il Pescara e l'Italia sono i driver del mondo del calcio per loro. E quindi sarà importante cercare di creare una partnership tra le due società, tra la società Pescara Calcio e tra quelli che vorranno fare calcio in Cina. Noi cercheremo di portare la nostra esperienza, sarà poca, sarà tanto, sarà buona, sarà meno buona, ma sicuramente proveremo a fare il meglio possibile. E l'investimento riguarda proprio questo, cercare di portare poi, di creare delle sinergie che facciano il bene del Pescara. A giugno poi una delegazione cinese verrà qui a Pescara in Abruzzo a ricambiare la vostra visita. Sì, verrà in Abruzzo, si verrà a rendere conto anche di quello che abbiamo raccontato, perché sai, sulle slide, sui racconti possiamo dire tutto quello che vogliamo. Nella realtà poi sarà bello invitarli qua, tenerli qua, fargli vedere che cosa stiamo facendo noi come Pescara Calcio, che cos'è l'Abruzzo.